250 euro al mese per ogni figlio fino a 21 anni di età è quanto riceveranno tutte le famiglie dal primo luglio 2021 con una maggiorazione per i figli disabili. È l'assegno unico universale, provvedimento centrale del Family Act che ha avuto l'ok definitivo dal Senato dopo il primo via libera della Camera della scorsa estate. L'assegno prevede un importo massimo di 250 euro al mese calcolato in base all'Isee, verrà diviso in parti uguali tra i genitori e andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno riconosciute alla famiglia dai vari bonus alle detrazioni per i figli. Sarà corrisposto a tutti compresi in capienti, autonomi e partite IVA.